Fedez, vieni, vieni. Vieni un attimo. Ti devo dire una cosa, un attimo. Mi avvicino io. C'è gente, non mi fai gridare. E il video social, divenuto virale in pochi minuti, nel quale l'assessore alla cultura e vice sindaco della città di Taranto si rivolge a Federico, più noto come Fedez, per invitarlo e pubblicizzare al tempo stesso i tanti eventi in programma nella stagione estiva nella città dei Due Mari. Te l'ho fatto incazzare? Eh, lo so, mi se ne l'abbiamo pure io, ci mancherebbe. No, avevi tutte le ragioni del mondo, ma ci mancherebbe altro. Però lascia stare, non ti arrabbiare, Federico, lascia stare. A che vale la pena, serve a qualcosa, che ti arrabbia fare, dai. Ti fai una cosa, quest'estate vieni a Taranto, stiamo organizzando una marea di concerti, spettacoli teatrali, tanti, poi li conosci, tanti artisti che tu conosci sicuramente. Ti metto a disposizione tutti i palchi che vuoi, sali, dici tutto quello che vuoi senza censura. Eh? Che te ne pare come idea? Con riferimento piccato al sistema, che avrebbe, a detta di Fedez, tentato di censurare il suo discorso in occasione del primo maggio, Marti in calza, ti sistemiamo noi, a Chiara, ai tuoi bimbi, senza censura alcuna. Qui da noi, puoi, devi dire tutto. Eh sì, porta anche Chiara, i bambini, ci mancherebbe altro. Tanto parlo comunque dell'organizzazione che si occupa proprio di queste cose, e vi sistema. Sistema, vi sistema, no, non sistema in quel senso, vi sistema, sistema a te, Chiara, i bambini. Madonna, però non si può dire una parola, eh, sei troppo, eh, che cosa, dai. Vabbè, non ti arrabbiate, ti aspetto quest'estate, stai tranquillo, stai tranquillo. Ci vediamo a Taranto quest'estate, un sacco di eventi, un sacco di eventi, palchi, tutto a tua disposizione. A quest'estate, fede. Allora non resta altro che attendere e scoprire se Fedez accetterà l'invito. Grazie a tutti.